L'Atalanta smentisce con forza. Nei giorni scorsi l'assessore regionale allo sport ed ex campione olimpico Antonio Rossi aveva lanciato la proposta, il logo dell'Expo sulle maglie di Inter e Milan per dare ancora più visibilità all'evento che coinvolgerà Milano ma anche tutta la Lombardia tra due anni. Il giorno dopo Claudia Terzi, assessore regionale allo ambiente, bergamasca ed ex sindaco di Dalmine si era rivolta anche alla società nera-azzurra per invitarla a partecipare a quest'idea, anche per far sì che i bergamaschi si sentano più coinvolti in questo progetto. La risposta dalla società era sembrata timida, tanto che stavano già iniziando a piovere sopra Zingonia le prime polemiche. L'Atalanta però smentisce. Dalla persona di Luca Percassi, amministratore delegato nera-azzurro, arriva alla precisazione di non aver mai detto no a questa proposta ed anzi che la società è assolutamente disponibile a prendere in considerazione l'iniziativa. Nel frattempo è già arrivata la prima adesione ufficiale dalle categorie inferiori. Il Como, che disputerà il prossimo campionato di prima divisione, l'ex serie C1, si è messo a disposizione per valorizzare il marchio Expo. È probabile che la società atalantina, sempre molto attenta alle iniziative riguardanti il brand, non si lasci quindi sfuggire l'opportunità di coniugare il proprio marco con quello di un'iniziativa che, a livello economico, precisa l'assessore Terzi, porterà una produzione di fili in otto anni pari a 25 miliardi di euro. Un traguardo fondamentale per rilanciare l'economia della Lombardia e dell'intero paese.